La settima edizione di Migliorarsi a piccoli passi ha conquistato Orsare di Puglia. Grande successo, hanno contrassegnato l'intera giornata nel Borgo Dauno che ha ospitato una quarantina di bambini e ragazzi, divisi in quattro squadre e seguiti da altrettanti team di professionisti di stile e immagine, nonché le rispettive famiglie. Con il motto che ormai contraddistingue la manifestazione itinerante, Migliorarsi per volersi bene, voler bene al mondo, i partecipanti hanno interpretato quattro trend diversi, romantico, rock, elegante e denim. Tante le novità introdotte quest'anno nel collaudato format che unisce la cura di sé dal punto di vista psicofisico alla conoscenza e rispetto del territorio. La collaborazione con alcuni sodalizi, dalla GAPEC alla sede principale a San Giovanni Rotondo, i diversabili di Lucela, l'AS di Elpis di Foggia e poi la possibilità, data per la prima volta a quattro giovanissime concorrenti delle passate edizioni, di occuparsi di un'intera squadra. Siamo felicissimi dell'accoglienza ricevuta ad Ossara, ha dichiarato Carlo Ventola, ideatore di Migliorarsi e presidente dell'APS noi di Lucera. Grande curiosità e divertimento ha suscitato la suggestiva passeggiata nell'orto.